Sapete di questo timer, sapete di una bombola di gas. Di una bombola sequestrata? Sì. Mentre altre che sono scoppiate? Sì, quindi questo ci fa pensare che l'esplosione sia stata un'esplosione voluta e deliberatamente determinata. Si parlerà di due esplosioni, una prima verso la mezza e una seconda verso l'una e mezza? Ci sono state più esplosioni, intervallate, però sono accertamenti che devono essere svolti sul tempo delle esplosioni, sulle dinamiche di queste esplosioni. Grazie a tutti.